No, diciamo anche un'altra cosa, i politici lasciano stare i libri, li leggiano i libri quelli buoni invece di scriverli, perché non è cosa da politici scrivere libri, lavorare, fare i ministri, ma leggessero i ministri e leggessero buoni libri, scrivergli è un'altra storia, non è una roba, non mi pare che, non ricordo diciamo di aver letto, dovrei tornare che ne so a Churchill o a cose del genere, diciamo, per ricordare delle cose importanti di politica. Allora in attesa delle conferenze stampa, perché come vi abbiamo raccontato c'è quella di Mario Draghi che dovrebbe cominciare ormai fra pochi minuti, anzi Luca Sappino mi sente? Non mi può sentire, non mi può parlare, perché è all'interno del luogo in cui si tiene la conferenza stampa di Draghi e quindi seguiremo.